Il venerdì 30 dicembre 2011 non è mai esistito nelle isole Samoa. Il governo dell'arcipelago ha infatti deciso di cambiare diffuso orario e di passare dall'altra parte della linea del cambiamento di data per favorire i rapporti d'affari con Australia, Nuova Zelanda e Asia piuttosto che con l'America. Molti uomini d'affari mi hanno confermato che la decisione è molto vantaggiosa per le loro attività economiche. Oggi si passa dunque direttamente dal 29 al 31 dicembre. I Samoani sembrano accogliere con favore la novità. Penso che sia una buona cosa cambiare il fuso orario per favorire lo sviluppo economico di Samoa. L'arcipelago fa dunque un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione col continente australiano. Due anni fa Samoa decise di cambiare il sistema di circolazione stranale adottando la guida a sinistra come in Australia.